Questo è il motivo per cui i narcisisti tendono a non cambiare. Allora, i narcisisti hanno delle caratteristiche che sono la scarsa empatia, il voler manipolare, il mentire, il voler controllare, l'essere possessivi. I narcisisti maligni aggiungono il sadismo, la volontà di danneggiare, la volontà di far del male. Ora, uno dice, ma perché il narcisista non può cambiare? Ora, il discorso è che nessuno è, diciamo, immune dal cambiamento, anzi, come dire, una delle cose fondamentali del buddismo è che tutto è impermanente, tutto cambia, tutto si trasforma. Questo è vero. Nessuno può escludere al 100% che un narcisista non cambi, che abbia un insight e per qualche motivo diventi la persona migliore del mondo. Non è che in linea di principio si può escludere questo. Però diciamo che i cambiamenti avvengono all'interno di una struttura. Pensiamo a un cane o anche un essere umano. Non è che non cambia, ma difficilmente un essere umano in questa vita, diciamo, si trasformerà radicalmente se stesso. Certo, ci possono essere dei cambiamenti, ma sempre all'interno di una struttura, eccetto casi, cioè l'indeterminazione esiste, per carità, ma, diciamo, non fa statistica, nel senso che potrebbero essere casi diversi. Nessuno potrebbe escludere che un narcisista possa diventare empatico, sviluppare amore, diventare altruista, lasciare perdere l'egocentrismo, facendo magari una terapia o no facendola, insomma, perché può succedere. Ma sono casi rari. Normalmente il narcisista è all'interno di un sistema che gli impedisce di fare questo sviluppo, perché il meccanismo di difesa è molto consolidato, è molto forte, e il narcisista cambia strategia, sicuramente cambia modo di fare, ma la filosofia è sempre la stessa. È un po' come dire, certo, posso cambiare, facciola sempre pasta asciutta, posso cambiare un po' il contorno, posso cambiare sempre magari la pasta, anziché essere una pasta, diciamo, lunga, anziché essere spaghetti, potrebbero essere, diciamo, penne, per dire, ma sempre pasta è. E il narcisista, nell'interazione con le persone, cambia, perché i narcisisti tra l'altro sono camaleontici, diciamo così, soprattutto gli istrionici, no? Ti sembrano persone completamente diverse, ma cambiano senza che cambi nulla, fondamentalmente. Proprio perché asservono, servono il meccanismo del narcisismo fino, finalizzato, diciamo, a se stesso. Quindi il meccanismo del narcisismo è sempre finalizzato a se stesso. Quindi possono cambiare modalità operativa, possono cambiare azioni, possono cambiare, diciamo, modo di fare, ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Quindi non cambia l'obiettivo, diciamo. L'obiettivo è sempre quello di controllarti, manipolarti, avere il predominio, perché percepiscono il mondo in modo duale. O si domino o si è dominati, o si controlla o si è controllati, o si vince o si perde. Hanno questa logica fortemente radicata e quindi di fatto non cambiano. Il loro obiettivo è sempre lo stesso. Non potranno provare, potranno far finta di provare empatia, potranno far finta di apparire diversi, potranno far tutte le finte di questo mondo, ma sempre con un unico obiettivo, quello di controllare, manipolare, gestire, avere dei vantaggi basati proprio sull'egoismo. Essere egoisti è il punto fondamentale, diciamo, di queste persone. Per cui queste sono un po' le regole che il narcisista ha, sono le regole che il narcisista, diciamo, mette in atto e devi tenere presente che le cose si manifestano in questo modo. Quindi evita assolutamente, in qualunque modo, in qualunque caso, di sperare che il narcisista possa diventare una persona buona, possa diventare una persona buona per te, perché poi anche lì il buono è relativo. Il narcisista è sicuramente buono per lui, tra virgolette. Le cose che fa, le fa per un suo vantaggio. Le cose che fa, le fa per raggiungere un suo obiettivo. Questo devi tenerlo presente. Quindi, quando hai capito che hai a che fare con un narcisista, devi evitare di cadere nella trappola dell'illusione, cambierà il mio amore, lo farà cambiare, il mio amore lo trasformerà. Perché l'illusione nella quale spesso cadono le persone è proprio quello di credere, illudendosi appunto, che attraverso un atto d'amore, attraverso un... come dire, attraverso l'amore, possano cambiare. Attraverso l'amore che ricevono, possono cambiare. Ripeto, questo indigna di principio. Ma non credere, non cadere neanche nell'illusione di dire tutti gli altri non cambiano, ma il mio narcisista cambierà, perché io lo farò cambiare. È una battaglia persa, è come sperare di vivere, non so, comprando un biglietto della lotteria del Suprena Lotto al giorno, sperando di arricchirti così. Per carità, è possibile che succeda. Ogni biglietto di fare sei, mi sembra, uno su 625 milioni di possibilità. Per cui, certo che è possibile che accada. Comprandone uno al giorno, diciamo, non lo so, ci vorranno... Beh, uno può farlo anche al primo, ma quanti lo fanno? Uno su 625 milioni, appunto. Quindi è questo il concetto, no? Questo è il concetto di fondo. Per cui sarebbe delegare la propria vita al nulla. È molto, molto più probabile che tu butti via la tua vita, che butti via il tuo tempo, che butti via le tue risorse, che butti via le tue capacità. Quindi l'unica cosa da fare, quando hai capito che hai a che fare con un narcisista, che ti piaccia o che non ti piaccia, l'unica cosa sensata che puoi fare è quella di chiudere definitivamente, completamente, totalmente la relazione. E andare a trovarti in un'altra situazione, andare a trovare un'altra persona, andare a trovare qualcun altro che ti potrà dare, diciamo, qualcosa che il narcisista di suo, per come è strutturato, non riuscirà mai e poi mai a darti. Con un minimo di ragionevole speranza, ragionevole probabilità. Quindi chiudi definitivamente. E le cose ti andranno sicuramente meglio. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, perché il video ti è piaciuto, vai sotto al canale, cuoricino, e scegli, diciamo, di fare una piccola donazione, anche piccola al canale, che comunque è sempre ben gradita. Quindi basta cliccare sul cuoricino e poi fare una piccola donazione. È molto, molto semplice. E ti ricordo inoltre di seguirmi anche sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguirmi su TikTok. E ti ricordo inoltre, sempre Massimo Terramasco su TikTok, ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, in tastina, in tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. non è un'abbonamento che preferisci. E poi?